ti andrò a trasportare su un'isola paradisiaca vedi le foglie della palma che si muovono lentamente accompagnate dal vento è tutto perfetto per te ciao ciao grazie di essere qui 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 con me oggi 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 voglio portarvi un video di meditazione barra rilassamento guidato barra visualizzazione infatti voglio portarmi al mare in un'isola lontana 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 so che in molti ormai stanno aspettando le vacanze e diciamo che voglio un attimo teletrasportarvi col pensiero già lì al mare lontani da tutto da tutti di solito sono una ragazza tutta montagna però so che molti d'estate preferiscono il mare quindi ho ambientato questo rilassamento guidato al mare e in particolare voglio trasportarvi appunto in un'isola esotica ai Caraibi e voglio farvi sentire lì sulla spiaggia col sole sulla pelle voglio farvi vivere questa esperienza quindi ciò che vi consiglio ovviamente è di chiudere 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 gli occhi però potete anche tenerli aperti ma la vista ma la vista un po' diminuisce l'intensità di questo rilassamento guidato se questo video ti piacerà ricorda di mettere un bel mi piace e di lasciare un commento 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 grazie per il tuo supporto ciò che ci sono non lo ricordo mai ma ho attivato gli abbonamenti per il canale quindi se volete accedere ai miei video gli stessi video che vedete qui ma senza pubblicità nell'inizio e nella fine potete abbonarvi al costo di 2€ al mese tutto qui giusto perché lo sappiate però non ci sono contenuti esclusivi al massimo dei contenuti che escono in anteprima comincerei con una delle mie cose preferite mentre non arriverai caldo 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 che è l'accento a una candela ma è assolutamente in tema perché qui questa candela si chiama sunrise è a base di mango aranzo rossa dentro c'è anche del cocco io adoro questi frutti sa di sera d'estate giuro fannosa inspira sei d'accordo con me? questo profumo dolce fruttato, fresco fra fiori e frutta andiamo subito 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 ad accenderla in modo da immergerci già con il senso dell'olfatto su un'isola tropicale vado a prendere un accendino ci sono ci sono quelli in carta ci sono quelli in carta lasciamo che questo profumo si infonda attorno a noi questo profumo di frutta esotica, di cocco, mango, fiori tropicali lasciamo questo profumo già un po' e capire, continuiamo adesso è proprio l'ora di chiudere, 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 chiudere chiudere, chiudere, chiudere gli occhi, chiudi, chiudi gli occhi perché ti andrò a trasportare su un'isola paradisiaca mettiti il tuo outfit preferito da spiaggia immagino come sei vestito, vestita sei un costume, un parea, un vestito una camicia che cosa hai indosso? indossa la cosa con cui ti senti pioggia e comincio a vedere dove sei comincio a guardarti intorno senti queste onde leggere che si infrangono sulla sabbia senti il rumore del mare senti l'odore di salsedine lascia di gullare dal suo nome l'odore di salsi l'odore di salsi lascia di gullare dal suono del mare dal suono delle piccole dal suono dell'acqua che sguardo sulla sabbia e ora guarda il mare è di un colore incredibile anzi il più colori è questo azzurro chiaro che va a far solcere si tende verso il turchese verso il blu questo mare che ha tutti e tutti i blu che si votano fra di loro e brilla sotto la luce del sole quindi osserva questo mare scodere sulla spiaggia bianca bianchissima infatti siamo su un'isola con la barriera corallina e la sabbia e la sabbia non è altro che della barriera corallina spriciolata bellissima e quasi impalpabile il suo colore è sul bianco spinto bianco grigio bianco grigio ed è legissima morbidissima morbidissima la sensazione solamente è stupenda tocchi la sabbia tocchi la sabbia e vedi com'è scorre fra le sue dita fra le tue mani scorre fra le tue mani non è né calda né fredda della temperatura perfetta della temperatura perfetta quindi ora concentrati sui tuoi sensi concentrati sull'alfatto senti un po' la germa senti quest'ora di è brutta i fiori esotici l'udito senti il mare il cielo il suono che ti colla pian piano le onde che vanno verso la spiaggia e si ritraggono e di nuovo verso di te e si ritraggono e il tanto senti la sabbia fra le tue dita e le tue mani senti la sabbia sotto il tuo corpo sotto i tuoi piedi e e senti anche il sole che ti scatta leggermente senza scontarti un sole molto piacevole e la vista con questo mare con questo colore perfetto domandito te e se ti guardi intorno potrai vedere le palme meravigliose che almeno stupendo queste palme che hanno anche i cocchi di sopra e se ti cedi dall'altra parte infatti troverai un cocco con dentro tantissima acqua di cocco riprescate dovrà essere costata ovviamente se non ti piace il cocco puoi scegliere la bevanda che vuoi però senti questo cocco tra le mani un po' pesante perché è pieno pieno d'acqua senti l'odore e assapora questa bevanda naturale freschissima e super super dissetante cogli questo momento con tutti i tuoi sensi in pace questo momento perfetto solo per te super rilassante senza nessun disturbo è tutto perfetto per te ora muovi un po' di passi e entra in acqua l'acqua è leggermente fresca ma molto piacevole non calda con l'acqua non troppo calda e con il sole sulla pelle si sta benissimo e se immergi la testa in acqua vedrai tantissimi stupendi coralli e anche qualche specie colorato qualcuno più piccolo qualcuno più grande concentrati sulla sensazione sul suono nell'essere sott'acqua e qui tutto è un po' fattato senti tutto un po' meno ed è tutto sospeso senti l'acqua la sensazione dell'acqua contro tutto il corpo che ti scorre fra i capelli e osserva tutti questi pesciolini non sono pericolosi non sono pericolosi né nulla alcuni sono blu elettrici altri gialli altri hanno quasi un alcobaleno sopra alcuni sono piccoli piccoli alcuni si muovono da soli altri invece tutti insieme e si allocchi la mano si spostano tutti insieme come se fossero una cosa sola e ora ritorni su pian piano pian piano pian piano torni arriva ritorna quindi il suono delle onde e adesso distrai comodamente al sole all'ombra come vuoi te senti questa sensazione stupenda dell'acqua che pian piano si asciuga sul tuo corpo e senti questo leggero venticello che ti accarezza la pelle vedi le foglie della palma che si muovono lento a vento accompagnate dal vento e sei lì che ti modi questa sensazione è tutto semplicemente perfetto non hai bisogno di nulla non c'è nessun pensiero non hai la tua testa sei solo concentrato sono le sensazioni non hai un certo respiro profondamente la pratica è operare formas interni vota e ora se ti giri di fianco a te appena un frutto esotico a tua scelta può essere un mango, papaya, collo, ananas o qualcosa di più particolare se vuoi scrivimi se vuoi che frutto è per me direi che sarebbe un mango è già sbucciato, è già pronto per essere mangiato portalo alla bocca e mentre ti godi tutte queste sensazioni che hai intorno che sono nel mare, il vento, la sabbia, il sole assapora questo frutto, senti il suo sapore esplodere, far esplodere le tue pupille costative non è buonissimo, non è un momento assolutamente perfetto stai qui respira se ti serve qualcosa lo troverai lì di fianco a te e adesso io ti lascio qui ti ringrazio di cuore per aver riposto l'iduce in me e per esserti fatto a guidare con la mente, con il corpo dove ti volevo portare potrai tornare in questa oasi di pace tutte le volte che vorrai io ci sarò sempre per darti un po' di pace ti mando un bacione goditi questo momento che ti spera grazie a tutti grazie a tutti